Sì, sono molto contento di essere qua a Udine, ci speravo tanto perché so che è una società che punta i giovani e li porta al massimo di livello. Cosa ti porti dietro dall'esperienza con l'Inter che è stata la tua prima grande esperienza con un grande club nell'approccio col calcio professionistico? Beh, che è tutta un'altra cosa della primavera, sono benvenuto dalla primavera e mi sono affacciato subito da professionisti e non devi mollare mai e di stare sempre sul pezzo per andare avanti a questi giocatori. Conosci qualcuno dei compagni, oltre a quelli più noti naturalmente, altri che fanno parte di questo gruppo? Sì, conosco Fabrini che fa parte dell'Under 21 e abbiamo fatto qualche partita insieme. Le tue caratteristiche possiamo descriverle per i nostri spettatori? Beh, sono un giovane che piace molto correre, ha molta velocità e piace giocare in velocità. Destra, sinistra dove? È uguale, preferisco a destra però anche se mi si metta a sinistra non è il problema. Cosa ti aspetti personalmente da questa stagione? Beh, per tutti i risultati, per tutta la squadra e che vada bene, che si va bene. Poi, certo, per me spero di giocare il più possibile ma poi dici del mister sul campo.